Ciao a tutti, oggi prepareremo il liquore rossana. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono caramelle rossana, alcol per alimenti, latte e panna fresca. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le caramelle rossana e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Luminiamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo il latte, la panna, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 18 minuti 90 gradi velocità 5 Lasciamo raffreddare all'interno del boccale mescolando di tanto in tanto Una volta raffreddato aggiungiamo l'alcol ed amalgamare per un minuto a velocità 3 Il liquore è pronto, imbottigliare, mettere in frigo e servire freddo Liquore rossana. Si conserva in frigo per due mesi. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!